Amici di milan.soccer buon pranzo della domenica buona digestione a chi ha già pranzato e buona attesa a chi sta per mangiare stati guardando i cuginastri no non abbiamo cugini avete ragione no 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 guardiamo guardiamo al pasto che è la cosa che più ci interessa e dunque prima di cominciare come sempre e così dolcemente vi ricordo di iscrivervi al canale qui sotto c'è scritto iscriviti cliccate gratuito quindi fate un grande piacere a me al direttore ad alienino che sono a pranzo domenicale con le rispettive famiglie e dunque potete aiutare gratuitamente il nostro canale il vostro canale ripeto tra qualche tempo chi vorrà potrà anche metterci la faccia e fare dei video e poi vi ricordo anche romanzo milan lo faccio così romanzo milan il libro per veri milanisti se siete veri milanisti qui sotto link in descrizione allora avete visto la copertina sì perché è ora di affrontare questo tema bisogna parlare di uno dei problemi più importanti del milan e lo facciamo tra breve ma prima mi stavo divertendo a guardare la classifica dunque sono le due milanesi diciamo così come dicono i giornalisti che fanno finta di essere neutri stamattina sono andato al bar ho aperto la gazzetta dello sport ero non lo so riesce veramente a rovinarmi qualsiasi istante dice perché la apri per curiosità non la compro o è online ed è gratis o al bar ed era un tripudio un tripudio nerazzurro io consiglio al direttore della gazzetta dello sport di cambiare colore della carta anche se ricorda molto un altro tipo di carta e quindi ci sta però dunque guardavo il calendario prossima partita mercoledì cagliari milan poi sabato milan lazio mercoledì borussia dortmund sabato genoa milan poi milan juventus paris san germain milan cioè il calendario del milan è veramente veramente complicato cioè abbiamo veramente un tour de force complicato invece chi ha fatto il calendario e abbiamo messo il video abbiamo fatto un video su chi ha fatto il calendario ex dirigente inter team manager inter insomma uno che è stato tanti e tanti anni nell'inter e infatti l'inter si ritrova subito subito dopo il real società si ritrova l'empoli è inutile che scrivete ma come si fa a sapere che l'empoli prima ma bisogna capire di calcio per capire che l'empoli è una squadra già retrocessa ora di là di quello che sta succedendo però inter sassuolo salernitana inter inter bologna quando è che c'è una partita difficile per questi torino inter cioè dall'inizio dall'inizio del campionato e questo conta e infatti il milan che oggi si trova a 12 punti perlomeno può dire di aver incontrato come dire squadre il verona una squadra coriacea il verona una squadra vera il verona è una squadra che le prime due partite la vinte è una squadra che gioca a pallone quindi ci sono abbiamo incontrato la roma insomma abbiamo incontrato squadre ma al di là di tutto questo la cosa di cui voglio parlarvi oggi è la questione relativa agli infortuni allora qualcosa qualcosa non funziona qualcosa non va l'abbiamo detto non è da oggi è non è da oggi è una è una questione che ormai è vecchia è vecchia almeno degli ultimi tre anni tanti 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 troppi infortuni non è possibile l'unica squadra in italia dove a un certo punto tu vedi un contrasto banale e a quel punto il giocatore del milan salta 15 giorni 30 giorni 60 giorni oppure non c'è nessun contrasto si siedono e non si rialzano ma non va da memoria parliamo di ibra d'accordo lasciamo perdere ibra vogliamo parlare di megnan cinque mesi fuori vogliamo parlare di benasser vogliamo parlare di crunic vogliamo parlare ancora di megnan vogliamo parlare di teo hernandez vogliamo parlare di calabria tra l'altro una dichiarazione di pioli che dice no io con lo staff medico lo staff medico mi ha detto del che teo hernandez e calabria non sarebbero stati dei nostri me l'ha detto praticamente qualche ora prima anche questo scollegamento mi sembra abbastanza imbarazzante quanto tempo staranno fuori non lo so quanto tempo staranno fuori non è questo il problema ma noi ieri abbiamo giocato l'altro ieri sabato abbiamo ieri abbiamo giocato con un 3 4 3 perché il milan non aveva terzini allora al di là della campagna acquisti che è stata una campagna acquisti secondo me non strutturata in base alle esigenze perché oggi tu non puoi fare a meno di girù non puoi fare ma queste cose le abbiamo già dette le ridiremo quello che però mi imbarazza è che a fronte di un problema calulù cioè noi a fronte di un gruppo di lavoro di un di una squadra che non ha in tutti i reparti giocatori con un con un sostituto non un minimo di sostituto e tu che cosa fai c'è un problema di preparazione atletica qualcuno qualcuno deve dirci perché l'unica squadra in italia che ha tutti questi problemi è il milan tomori viene diciamo squalificato perché dunque spulso e allora gioca calulù che si infortunia poi abbiamo una partita comunque importante come il verona perché è lì che si vincono gli scudetti quando vai a raccimolare tre punti su tre punti su tre punti su tre punti con queste squadre qui lo scudetto di bologna ce lo ricordiamo lo scudetto del mila quando l'inter poi a bologna ha fatto quello che ha fatto però ha i teo hernandez fuori perché affaticamento muscolare non lo so io non sono uno che sa cos'è una preparazione atletica quello che vedo è che se vado così semplicemente a braccio semplicemente a memoria noi abbiamo infortunati rebic ve lo ricordate quando è stato fuori non so quanto tempo ibraimovic rebic adesso io ho la memoria corta quindi non mi ricordo tutti quelli dell'anno scorso voi potete scriverli tutti sotto nei commenti ma già quest'anno la quarta giornata di campionato abbiamo benasser fuori crunic fuori teo hernandez fuori calabria fuori calulù fuori dai ragazzi bisogna che ci diciate come stanno le cose o prendiamo giocatori rotti e fragili oppure sbagliata la preparazione o è solo colpa del destino io ho aspettato tre anni per fare questo video tre anni ho aspettato per fare questo video perché va bene il destino va bene però il destino come dire anche statisticamente il destino a un certo punto dice ok 10 al milan 5 all'inter 4 all'atalanta 3 alla juventus non solo e sempre il milan però oggi i ragazzi riposano tenete le gambe alte statevi buoni non andate a fare niente di che abbiamo bisogno di voi si gioca mercoledì sabato mercoledì sabato e noi abbiamo bisogno di arrivare alla fine di questo periodo complicato perché incontriamo anche abbiamo incontrato la roma l'inter la juventus ma tutti scontri praticamente diretti borussia paris saint germain newcastle e poi dobbiamo arrivare a un minimo no di discesa che è rappresentato da incontri più semplici se a quel punto tu alla decima undicesima giornata riesce a tenere il passo su in alto della prima puoi sperare di fare qualcosa di buono certo non con il gioco che si è visto ieri va bene buon pranzo ci vediamo più tardi ciao